Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Ci siamo, sta per cambiare la situazione, sta per cambiare perché giungerà aria più fredda, vedete, ora è sui settori più orientali dell'Europa, ma riuscirà ad entrare nel Mediterraneo, a raggiungere la penisola italiana e quindi arretra l'anticiclone, verrà in parte sconfitto. Cosa accadrà nella giornata di venerdì? Sul nostro territorio avremo nuvolosità irregolare, maggiori schiarite sui settori più settentrionali e soprattutto orientali, parlo della Lombardia, sul Piemonte un po' di nuvole, sulla fascia, vedete, più occidentale e anche sud-occidentale avremo qualche piovasco e anche qualche fiocco oltre 1.300-1.400 metri, la quota neve poi verso sera tenderà a calare proprio perché giungerà aria decisamente più freddina. Nella seconda parte del giorno con temperature in calo e con venti in rinforzo da est. Cambia quindi il quadro, primo, come promesso, primo assaggio della stagione invernale. Arrivederci!